Scommetto che avrete praticamente tutto per prepararle già adesso! Battete 4 uova e un pizzico di sale e mettetele a cuocere in una padella. Tritate le erbe aromatiche che vi piacciono di più, se volete anche con la mezzaluna come faccio io, e aggiungete la ricotta o il formaggio spalmabile. Spalmate sulla frittatina, arrotolate e poi tagliate e servite. Facilissime, no? E adesso? Allacciate il grembiule e provatele anche voi! Mmm, buone!